abbiamo portato a lavorare qui, sono fatte da professionisti di primo ordine con un'attenzione straordinaria a tutta l'organizzazione dall'ufficio stampa, agli allestimenti, alla sicurezza che per noi viene davvero al primo posto abbiamo la commissione di vicinanza in questo momento che sta controllando ogni spazio e ci tenevo molto a dire che abbiamo un'organizzazione che abbiamo scelto e selezionato molto molto capace e competente, quindi siamo molto contenti di questo e il tema di quest'anno è un tema che noi avvertiamo e sentiamo molto in primis, diciamo in ordine cronologico, viene quello del Nepal perché è l'ultima purtroppo strage, però è una calamità naturale quella del Nepal mentre precedentemente quella dei migranti e quindi degli africani che mollono nel mare quella non è una calamità naturale, per cui ci piacerà durante la manifestazione come urlare a nostro modo, magari sulle note della musica e poi Camila saprà fare al meglio anche in questo senso però le abbiamo affidato anche questo collico dedicato al quale teniamo molto tutti quanti grazie a tutti